Alza il culo come si dice, segui le istruzioni vai, è come se fosse l'allenatore Lory Va bene Lory, e ora lo vediamo, c'è una certa stanchezza vai, sono contento quello, vedi? E' un po' che ti chiamiamo carico Hai capito? E' un po' che ti chiamiamo carico E' un po' che ti chiamiamo carico Vedi? Tutte le culiche Stai un po' che ti chiamiamo carico Un punto Un punto Un punto Qua la fai lunga, la fai corta Capito? Ok Lory Ti manca l'altezza Ti manca il culo, devi portarlo in alto il culo Ti manca un po' d'altezza Posso vedere l'altezza? Aspetta Lasciò tanto registrato Te lo metti dopo, dai Sei in basso, sei in basso Vieni, mi guarda che ho toccato questo delto Dopo un po' faccio, sono terminato Poi si passa Vai Va bene Grande Ok